buongiorno a tutti siamo qua al campo di l'alterina per l'evento di lancio del nuovo sovrapposto 690 filter 3 siamo qua in compagnia di un grandissimo tiratore e anche cacciatore francesco daniello quale voglio chiederti come ti è sembrato il fucile hai provato si l'ho provato devo dire veramente un ottimo prodotto una bellissima produzione degli altri precedenti la cosa che mi ha colpito tantissimo la stabilità durante il tiro è maneggevolissimo affidabile e anche sparando con cartucce 28 30 30 kg fucile veramente stabile e questo credo che sia una cosa importante che possa soddisfare l'esigenza di qualsiasi cacciatore esatto perché è importante sia quando si tira ma anche durante la caccia importantissimo che l'incisione ti piace molto molto devo dire che appunto la cosa che arricchisce molto questo prodotto è proprio l'incisione fatta veramente molto molto bene arricchisce molto e da così bellezza questo questo prodotto questo fucile lo arricchisce molto di più insomma perché no unire sai bellezza alla alla praticità e questo è un prodotto secondo me ideale allo scopo è proprio quello il nostro scopo con questo fucile riuscire a unire sia un fucile bello ma anche un fucile che funzioni ma questo ci mettiamo la parola come beretta certo come tutti i prodotti beretta